E va da poco, no? E va? E va? No, no! Yئ... avis... All the time? Ah! D o, why are you can't be able to go on the side? I mean, how long do you get to go? It's been a long time, Radha! You've been able to start it and get to the side. No... That's what I mean. But that's... It's been a client waiting in the office. It's been a client. That's right. Hm? Ah... C'è una line Ah...那 c'è il teissen? Non so che c'è il giro? Il cao della città Ah...si è... Che c'è la città? C'è il giro della città? Non c'è il giro di giro Si, che vi andiamo a fare come sempre Chiamo qui. Ok, vi andiamo a fare un anno Come andiamo a fare. Luca? Dio, prima di andare via? Dio, prima? Nein, viea! Che stai stronendo da a inscreva? Rai posizione di shuto Mi ringa che ho nel estere Datate? Mi ringa che ho! Mi ringa che fai con qualcuno Mi ringa che ho mi ringa Mi ringa che vieni Mi ringa di Dessha Mi ringa di Dessha Di qui c'è mangi? Allora, mi senti a me? Mi senti a me? Sì, non mi senti a me? Una volta una volta, ho vissato? Mi senti a me? Non ho, non ho capito. No. Sathya, non ho capito. Non c'è nessuno che mi sento. Non c'è nessuno. Ok? Ah, se non c'è nessuno che mi sento. Se non c'è nessuno che mi sento. Non c'è nessuno che mi sento. Ah, non c'è nessuno che mi sento. Raiann si vede un sacco. Sì, l'abbiamo con la mia mia domanda. ...Mai dovuto anche andare a questo. ...Mai dovuto aver guardato sul posto di quel punto. No, ma non ho capito. ...Adesso non mi piace di come. ...Eva un'attività. ...Adesso ne pensi di questo? ...In un'attività. ...Evo a te, non ci sei. ...Evo a te che a te. ...In un'attività nel mondo. ...O no. ...Ella cosa c'è? ...Ella cosa che ti fate a. ...Pasci di tutto? No, 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 no. e non è venuta Voi, sono due amici Voi che vanno qui Voi che vanno? Voi? Voi? Voi non vanno a fare Voi, non vanno a fare Voi che vanno a fare un uomo Voi che vanno a fare un uomo Voi che vanno a fare Il nostro carico mi ha fatto un altro video, non so neanche il mio amore. Non so neanche il mio amore. C'è il nostro carico mi ha fatto. Voi, non fa. Non ci sono già il cheio di loro. Si è il nostro carico, non ci sono già il nostro carico. Non ci sono i nostri carici. non è il nostro corso no non no non 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 Beh, non c'è nessuno. Eva mi chiede? Eva? 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 R ciò di cattile da? Eva? R acc... Ma perché hai fatto? Oh, io ho sei! Chi ha fatto il tempo? E il fatto io? No, dovevi al warto? Oggi non mi affitti. Cole me fa un pezzo. Non mi affittazione, non mi affittazione. Non mi affittare i mischi. Non mi affittazione, non mi affittazione. Ora hai dovuto farmi fra il mio ancho? Un aglio! Sì, come via di qui? Si, come via. C'è un problema che mi fa fare un'occhiare. E dunque? Ci sono tutte le persone che i stanni a tutti. Ci sono stati che mi fa fare un'occhiare. C'è un problema. C'è un problema che mi ha detto? E' stato un problema. non c'è il modo non so non non uccana non sono l'impero non c'è l'impero non c'è l'impero non c'è l'impero non c'è l'impero No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.